Le forze dell'ordine italiane hanno fatto scattare le manette per due egiziani accusati del reato di tratta di esseri umani. I due uomini sarebbero gli scafisti arrivati a bordo della nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranea e Medici Senza Frontiere che negli scorsi giorni ha sbarcato a Messina 182 migranti. Secondo le prime informazioni a tradirli sarebbero stati gli stessi naufraghi riscattati dal mare e dalla Ocean Viking che li avrebbero riconosciuti e segnalati alle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno infatti raccolto le informazioni fornite da alcuni migranti. Dopo aver pagato una somma di denaro nel paese di origine i migranti sono stati prima trasportati in una località libica all'interno di un capannone dove hanno trascorso alcuni giorni in attesa di intraprendere il viaggio verso l'Italia e dopo sono stati portati in spiaggia dove alcuni uomini armati e col volto coperto li hanno fatti salire su un'imbarcazione in legno. Sempre dalle testimonianze raccolte supportate da immagini video estrapolate da alcuni cellulari in possesso dei migranti gli agenti hanno individuato i due che alternandosi alla guida avevano condotto il natante. Lo sbarco è avvenuto lo scorso 24 settembre alle 8.30 del mattino. La nave è giunta al molo Norimberda di Messina dove intorno alle ore 11 ha dato il via alle operazioni di sbarco dei 182 migranti per lo più provenienti dall'Africa subsaraiana. Dopo lo sbarco i naufraghi sono stati poi trasportati alla caserma Gasparro di Messina per le procedure di riconoscimento.